Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti di nuovo, ancora, come sempre, ben ritrovati qua nel solito usuale disordine della mia libreria. Da me, dal mio solito giubbino da combattimento, dal mio, come dire, ciondolino a forma di martello di Thor e dalla mia sacra maglietta degli Hellhammer. Allora, per la prima volta da che ho aperto questo canale, dedico questo video ad una certa persona in risposta ad una certa persona. Allora, 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 allora. Gli Hellhammer ha a che fare con gli Hellhammer e col metal. Allora, chi sono gli Hellhammer? Gli Hellhammer furono un gruppetto, un gruppo svizzero di heavy metal estremo che nei primi anni Ottanta pubblicò con la Noise un mini album che all'epoca della pubblicazione fu ferocemente stroncato perché è considerato soltanto rumore, perché è considerato soltanto inutile caos e inutile fracasso. All'epoca, quando uscì il mini LP degli Hellhammer, io rimasi, non fui d'accordo con le feroci stroncature che ne furono fatte. Dissi semplicemente che questo gruppo aveva qualche, dissi che gli Hellhammer, eccoli qua, avevano qualche cosa da dire e che avrebbero portato delle grosse novità nell'ambito del metal. Ok? Oggettivamente i fatti mi hanno dato ragione perché in seguito i semi, marci, putridi e malati gettati dagli Hellhammer si sono evoluti in tutta una serie di band, di generi e sottogeneri più o meno estremi che marciano su quel passo lì. Va bene? E in seguito gli Hellhammer sono diventati, si sono trasformati in una delle mie band favorite, ovvero sia i Celtic Frost, gli autori di quello straordinario, assoluto e totale capolavoro del metal e della musica moderna che risponde al nome di Into the Pandemonium, che è uno dei dischi più belli, più fondamentali, più importanti, più clamorosamente innovativi della storia di tutto le vimetà e probabilmente anche della storia di tutto il rock. Ho un'autentica venerazione per il leader degli Hellhammer, che all'epoca aveva, mi pare, cienosce di cianni, credo. Ho un'autentica, ripeto, un'autentica venerazione per il leader degli Hellhammer, che poi divenne anche leader dei Celtic Frost, ovvero sia Thomas Gabriel Fischer, detto Tom G. Warrior, che per me, ripeto, è un autentico genio, secondo me, a mia modesta opinione. Ho avuto anche il piacere di incontrarlo qualche anno fa durante un suo tour come solista, ho avuto il piacere di parlarci, di scambiare con lui, di fare con lui una breve chiacchierata a proposito della musica, a proposito della storia, a proposito dei Celtic Frost, ahimè. E, come dire, ho scoperto di avere a che fare con una persona estremamente gentile, molto disponibile, con una persona molto, molto dall'intelligenza veramente molto raffinata, anche se dalla personalità quanto meno difficile e complicata. Ma si sa bene come sono fatti gli artisti, si sa bene come sono fatti i geni e, a mio modesto parere, Thomas Gabriel Fischer, alias Tom G. Warrior, leader degli Hellhammer e poi leader mente e motore trainante dei Celtic Frost, è Thomas Gabriel Fischer, è un genio, è un assoluto genio e non c'è niente da dire. Dicevo, perché questo video sui miei, sugli Hellhammer, sulla mia maglietta degli Hellhammer e sui Celtic Frost? Per un semplice motivo. Giusto oggi ho ricevuto su questo canale YouTube un messaggio da parte di un tale signore Bagatelle pour un massacre, perdonatemi, io il francese non lo so, leggo così, abbiate pazienza, la pronuncia è quella che è, scusatemi, ma che vi devo dire? Questo signore, il cui canale YouTube è vuoto e privo di contenuti, evidentemente come il suo cranio, dicevo, questo signore mi scrive, togliti quella maglietta degli Hellhammer, non ne sei degno, sei un aborto mancato tra una puttana e un vigliacco partigiano. Allora, a me non me ne frega un cazzo di quello che pensano di me, ma oggettivamente non mi devono toccare il metal e soprattutto devono stare un po' zitti quando parlano di certe cose con me. Ripeto, io quando gli Hellhammer fecero uscire il loro seminale e fondamentale mini album, l'ho ascoltato e rimasi, dico la verità, perplesso, ma intui che contrariamente che insomma le stroncature che ne furono fatte, diciamo che secondo me erano eccessive perché percepì negli Hellhammer qualche cosa di nuovo, di innovativo, di frescamente marcio se si può dire, ok? E oggettivamente io all'epoca li conoscevo all'epoca. Questo signore Bagatell per un massacre, dove cazzo stava quando io ascoltavo gli Hellhammer più di trent'anni fa? Probabilmente nemmeno nei coglioni del padre. E mi permetto di fare una citazione dal tredicesimo guerriero. Io sarò pure un aborto mancato tra una puttana e un vigliacco partigiano, come dice questo signore, chiamiamolo così. Ma io dico una cosa, mia madre è una grandonna, tuttora, e contrariamente a te, caro signor Bagatell por un massacre, io so benissimo chi era mio padre. Quindi io, cari signori, vi ringrazio, scusatemi per questa tirata, scusatemi per, se faccio vedere ancora con fierezza ed orgoglio, la mia maglietta degli Hellhammer e a certi fenomeni che pretendono dall'alto di un cazzo di indicarmi come mi devo vestire, cosa devo indossare e di che cosa e che cosa sarei degno di portare, dico soltanto una cosa, mi arrepate entrambi le dita medie. Ce lo siamo capiti? Quindi, cari signori, io ripeto, vi ringrazio per l'attenzione, scusate per la tirata personale, ma ritenevo giusto e doveroso dare quello che va dato ad una persona che veramente ha dimostrato di essere più vuota dei contenuti del suo canale. Signori, grazie ancora, buonanotte e arrivederci al mio prossimo video.